I buchi neri si trovano diffusi in tutto l'universo, ma la loro presenza è spesso associata a regioni di grande densità stellare, come a massi globulari o all'interno delle galassie. Essi possono formarsi attraverso il collasso gravitazionale di stelle massicce alla fine del loro ciclo vitale o aggregandosi nel nucleo di galassie come buchi neri supermassicci. La collocazione specifica di un buco nero nell'universo è legata al suo processo di formazione e all'evoluzione degli oggetti celesti circostanti. Questi misteriosi oggetti cosmici influenzano l'ambiente circostante attraverso la loro gravità intensa, giocando un ruolo cruciale nella dinamica e nell'evoluzione delle galassie. La storia della scoperta della teoria dei buchi neri è una narrazione affascinante che si estende per diversi secoli. Ecco una breve panoramica. Il concetto di un oggetto con una gravità così intensa da impedire persino alla luce di sfuggire fu introdotto in forma embrionare da John Mitchell nel 1783. Mitchell propose l'idea di stelle oscure nelle sue comunicazioni alla Royal Society di Londra. Tuttavia la teoria non guadagnò molta attenzione all'epoca. La teoria della relatività generale, modestamente, di Albert Einstein, pubblicata nel 1915, fornì una base matematica per comprendere la gravità come una curvatura dello spazio-tempo. Questa teoria aprì la strada per l'analisi di soluzioni che descrivono oggetti massicci con forza gravitazionale estrema. Carl Schwarzschild, poco dopo la pubblicazione della teoria della relatività generale, derivò la prima soluzione esatta per le equazioni di Einstein, che descriveva un oggetto massiccio in uno stato di contrazione gravitazionale, poi chiamato buco nero. Negli anni 60 l'astrofisico Roger Penrose dimostrò che la formazione di buchi neri è una previsione generale della teoria della relatività generale e non dipende dai dettagli specifici del collasso stellare. Il termine buco nero fu coniato nel 1967 dal fisico statunitense John Archibald Wheeler durante una conferenza. La sua espressione informale fu successivamente adottata ampiamente. La formazione di un buco nero attraverso il collasso gravitazionale di una stella massiccia è un processo fondamentale nella comprensione degli stadi finali della vita di alcune stelle. Questo processo può essere diviso in diverse fasi chiave. La fase stellare. Una stella massiccia è caratterizzata da una fusione nucleare che genera una pressione interna capace di contrastare la forza di gravità. Questo equilibrio tra la forza gravitazionale e la pressione dovuta alla fusione nucleare mantiene la stella stabile per gran parte della sua vita. L'esaurimento del combustibile nucleare Una volta che una stella massiccia esaurisce il suo combustibile nucleare smette di generare energia attraverso la fusione. Questo porta alla diminuzione della pressione interna che contrasta la forza di gravità. Il collasso gravitazionale. Con il termine del processo di fusione nucleare la forza di gravità inizia a prevalere comprimendo il suo nucleo stellare. Se la stella è sufficientemente massiccia almeno circa 20 volte la massa del nostro sole il collasso può portare alla formazione di un buco nero. La creazione di un buco nero. Durante il collasso la materia del nucleo stellare è spinta verso la singolarità, una regione di densità infinita al centro del buco nero. Intorno alla singolarità si estende l'orizzonte degli eventi, una superficie oltre la quale nulla può sfuggire alla gravità del buco nero. Caratteristiche del buco nero Un buco nero formato da questo processo avrà una massa corrispondente a quella della stella progenitrice. La massa del buco nero influenzerà le sue proprietà, ad esempio la dimensione dell'orizzonte degli eventi. I buchi neri possono essere classificati in diverse categorie in base alle loro dimensioni e alle caratteristiche specifiche. Le principali classificazioni includono Buchi neri stellari. Hanno una massa compresa tra 3 e 10 volte la massa del nostro sole. Si formano dal collasso di stelle massive. Buchi neri intermedi. Con masse comprese tra 100 e 1000 masse solari. Si pensa che possano formarsi dalla fusione di buchi neri stellari o dal collasso di ammassi stellari. Buchi neri supermassicci. Posseggono masse equivalenti a milioni o miliardi di masse solari. Sono generalmente trovati nei nuclei delle galassie e si ritiene che si siano formati attraverso processi di accrescimento, di massa e fusioni di buchi neri più piccoli. Buchi neri rotanti. Quando una stella collassa per formare un buco nero, la conservazione del momento angolare, può far sì che il buco nero risultante mantenga la rotazione della stella progenitrice. Microbuchi neri primordiali. Teoricamente sono buchi neri con masse dell'ordine di grandezza di un asteroide o inferiore. Si pensa che possano essersi formati nell'universo primordiale. I buchi neri sono caratterizzati da proprietà uniche, dovute alla gravità estrema, generata dalla concentrazione di massa in uno spazio relativamente piccolo. Due concetti fondamentali associati ai buchi neri sono, come abbiamo visto, la singolarità e l'orizzonte degli eventi. Al centro di un buco nero si trova la singolarità, una regione di densità infilita e volume zero. Questa è la parte centrale del buco nero, dove la massa è concentrata in modo estremo. Le leggi fisiche tradizionali perdono la loro validità in prossimità della singolarità e la nostra comprensione della fisica non può spiegare completamente cosa accade in questo punto. L'orizzonte degli eventi è la superficie immaginaria intorno a un buco nero, oltre la quale nulla può sfuggire alla sua gravità, nemmeno la luce. Una volta che un oggetto attraversa l'orizzonte degli eventi è destinato a cadere irreversibilmente nel buco nero. L'orizzonte degli eventi è determinato dalla massa del buco nero e rappresenta il punto di non ritorno. Altre proprietà importanti dei buchi neri includono la curvatura dello spazio-tempo. A causa della concentrazione di massa, i buchi neri causano una curvatura dello spazio-tempo. Questo si traduce in percorsi distorti per la luce e per gli oggetti in movimento che passano vicino al buco nero. La dilatazione del tempo. La gravità intensa di un buco nero produce un effetto di dilatazione del tempo. Il tempo scorre più lentamente vicino all'oggetto massivo come un buco nero rispetto a regioni con gravità meno intensa. L'effetto di lente gravitazionale. La gravità del buco nero funge da lente distorcendo la luce proveniente da oggetti dietro di esso. Questo fenomeno è noto come effetto di lente gravitazionale e può essere osservato quando la luce di oggetti distanti viene piegata intorno a un buco nero. L'osservazione dei buchi neri richiede l'uso di una varietà di strumenti avanzati e tecnologie innovative. Ecco alcuni degli strumenti principali utilizzati per studiare i buchi neri. Telescopi ottici ed elettromagnetici. I telescopi ottici tradizionali e altri strumenti elettromagnetici, come quelli che operano nelle diverse lunghezze d'onda, come il telescopio Hubble nell'ottico e l'infrarosso, sono utilizzati per osservare direttamente o indirettamente gli effetti dei buchi neri sulle stelle e il materiale circostante. Telescopi a raggi X. Gli oggetti vicini a buchi neri possono emettere raggi X intensi a causa dell'accelerazione del gas caldo circostante. Telescopi come il Chandra X-Ray Observatory sono progettati per rilevare queste emissioni a raggi X e studiare le proprietà dei buchi neri. L'interferometria gravitazionale. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Gli osservatori di onde gravitazionali, come LIGO, rilevano le onde gravitazionali generate da eventi cosmici violenti, come la fusione di buchi neri. Nel 2015 LIGO ha annunciato la prima rilevazione diretta delle onde gravitazionali da una fusione di buchi neri, aprendo una nuova finestra sull'universo. Virgo, situato in Europa, è un altro interferometro gravitazionale che collabora con LIGO per rilevare e localizzare le sorgenti di onde gravitazionali. L'Event Horizon Telescope è una rete di telescopi a scala planetaria progettata per ottenere immagini dettagliate della regione vicina all'orizzonte degli eventi dei buchi neri. Ha reso possibile la prima immagine di un buco nero nel 2019. L'integrazione di diverse tecniche e osservazioni è essenziale per ottenere una comprensione completa dei buchi neri, dalla loro formazione e proprietà alle interazioni con il loro ambiente circostante. Grazie. 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 Grazie.